Sindaco Leo Castiglione, tornano le feste del perdono, quali le novità di quest'anno che rappresenta un anno di ripresa, di rinascita, di ricominciare a ritrovarsi anche con questi avvenimenti? Certamente, sappiamo tutti che le feste del perdono sono l'appuntamento più importante atteso dagli ortonesi e non solo e quindi c'era tanta attesa dopo due anni di sosta, finalmente quest'anno siamo potuti ripartire. La novità è innanzitutto essere di nuovo tutti insieme a festeggiare e a venerare il nostro santo patrono, quello per primo. Poi c'è tutto un programma che ha dato attenzione a tutta la popolazione, a tutte le fasce d'età, dai bambini fino alle persone anziane. La presenza di Cristina Davina, dei nomadi, insomma che ha un target non solo per i giovani ma anche per i giovani e per i meno giovani. Insomma, anche ci sono degli artisti che nella serata dedicata proprio ai giovani sono prettamente per un pubblico giovanile. A questo mi piace aggiungere che abbiamo deciso di non fare i fuochi pirotecnici per rispetto e per quello che sta accadendo purtroppo nel mondo e in particolare in Ucraina. Dopodiché abbiamo scelto una dama che rappresentasse la famiglia in questo momento storico particolare che ha bisogno di ritrovare i veri valori della famiglia secondo noi e all'interno della famiglia il ruolo, un ruolo molto importante oggi è proprio quello della nonna, dei nonni perché sono veramente i veri ammortizzatori sociali delle famiglie per tutte le problematiche che stiamo vivendo e appunto abbiamo scelto una nonna che logicamente è mamma, mamma di tre figli, professoressa di matematica e anche nonna di uno splendido nipotino. La professoressa di Pietro Donatella, quindi una nonna che ha tenuto a precisare di essere lusingata di questa scelta perché lei vuole trasmettere un messaggio di positività, di ottimismo e di amore verso tutta la popolazione. Lei è una persona molto schiva che però ha deciso di farlo proprio per queste motivazioni. La sfilata ci sarà il 30 aprile e poi il primo e il due ci sarà la processione, il primo e il due, il concerto dei nomadi.